Autorità, Presidenti, colleghi, studenti, signore e signori, oggi è qui presente con noi il Presidente Barroso, cui fra poco conferiremo la laurea honoris causa in giurisprudenza. Un riconoscimento all'impulso che sta dando alla costruzione di una comunità europea più coesa, consapevole della sua identità e forte. È un impulso di particolare importanza in un momento complesso e difficile per il futuro della comunità europea che si sta approntando e sta preparando gli strumenti per la ripresa economica dopo la crisi economica finanziaria iniziata nel 2008. La crisi sta generando un cambiamento profondo nelle relazioni internazionali, ha reso più evidenti gli squilibri tra le grandi aree economiche del pianeta e sta accelerando lo spostamento del baricentro della crescita mondiale verso l'Oriente. Cina e India, seguita da Brasile e Russia, mantengono tassi di crescita sostanzialmente superiori a quelli dell'Occidente e anche i paesi cosiddetti STEAM, Sudafrica, Turchia, Indonesia e Messico, si stanno muovendo in grande crescita su quei livelli. Questo gruppo di paesi rappresentavano un quinto della ricchezza mondiale a fine secolo. Oggi sono quasi il 30% con tendenza ulteriore a crescere. Anche il ruolo dell'Europa si sta modificando in modo significativo e tale da richiedere cambiamenti complessi nella sua economia e nelle sue istituzioni. Questi cambiamenti stanno avendo ricadute sulla divisione internazionale del lavoro, sulla specializzazione industriale dei paesi e quindi avranno un'influenza di lungo periodo sulle caratteristiche del capitale umano, soprattutto per quello che riguarda le altre professioni. Università e centri di ricerca dovranno dunque comprendere i nuovi compiti che li attendono. Con la cerimonia odierna vogliamo riflettere su questi problemi, approfittando del Presidente Barroso che è qui presente, e io proverò in particolare a concentrarmi brevemente sullo Stato e le prospettive del sistema educativo e del sistema della ricerca nel contesto europeo, per capire come dobbiamo orientarci, quali strategie dobbiamo porre in atto per rispondere alle difficili sfide che ci stanno aspettando. I dati che voi vedete fra un istante sullo schermo sono i dati che confermano il cambiamento che è avvenuto in questi anni, parlo del 1995 rispetto al 2007, nelle proporzioni con cui ricerca e innovazione vengono sviluppate nei vari paesi. Da questi dati risulta evidente che la zona in grande crescita, una volta di più, è la zona fondamentalmente dell'Asia. Stesso dato, analogo dato, se noi guardiamo l'ascesa delle università. L'ascesa delle università è quella delle università asiatiche. È vero che gli Stati Uniti tengono ancora bene la primazia della situazione, ma nello stesso tempo è anche vero che le uniche università che stanno crescendo nel ranking internazionale sono quelle asiatiche. Come sta reagendo il problema nostro? E come sta reagendo il sistema europeo della formazione e della ricerca? Quali criticità deve affrontare? Ora, noi sappiamo tutti che a livello aggregato i fondamentali, i marchi economici e della ricchezza finanziaria delle famiglie nei paesi di lavoro dell'area europea sono migliori di quelli statunitensi. Però permane da lungo tempo ormai un differenziale serio di produttività. E questo differenziale fondamentalmente ha avuto tre fasi nel tempo. In particolare, come si vede, dal 1950 al 1973, in cui l'Europa è cresciuta insieme agli Stati Uniti aumentando il proprio tasso di produttività, un periodo di diminuzione, in cui entrambi, dopo la crisi petrolifera, sia l'Europa che gli Stati Uniti hanno ridotto il loro tasso, è un periodo che è quello ultimo, che è il periodo del quale stiamo parlando e che è critico, nel quale gli Stati Uniti hanno avuto una ripresa nella quale l'Europa non è riuscita ad accodarsi. Il problema quindi è, qui vediamo i dati, in relazione al PIL per ora lavorata, dell'Europa rispetto agli Stati Uniti. Il grafico con quadratini neri indica quindi una crescita fino al 1995, cioè l'Europa ha fatto un catching up, una rincorsa rispetto agli Stati Uniti, rincorsa che è terminata e sulla quale si stanno ponendo dei problemi. Ora il problema quindi è capire che effetti questo avrà sul mondo della ricerca e che effetti avrà sul mondo della formazione. Ora partiamo rapidamente dalla questione del famoso paradosso europeo. Già circa dieci anni fa il commissario Busquen aveva fatto notare che l'Europa produce, vedete alla sinistra dello schermo, un numero di pubblicazioni molto alto, più elevato di quello degli Stati Uniti. Ma se andiamo a vedere gli effetti di queste pubblicazioni, guardando le citazioni, guardando altri dati, per esempio le pubblicazioni per il ricercatore, ci accorgiamo che gli effetti della ricerca in Europa sono meno intensi, meno importanti di quelli che invece si hanno negli Stati Uniti. Questo dato che vedete adesso è ancora più indicativo, perché questi sono i valori dei patent, cioè dei diritti di proprietà intellettuale, nelle varie aree della meccanica, della chimica, del materiale, della biotecnologia. E si osserva molto facilmente che solo in un'area, quella dell'ingegneria meccanica, l'Europa ha una primazia, in tutte le altre risulta in rincorsa rispetto agli Stati Uniti. Quindi il problema, una volta di più che si pone, è quello dei tempi e i modi con cui innovazione da un lato e ricerca dall'altro si possono incontrare. Ora i tempi, come vedete da questa divertente immagine, sono in genere molto lunghi, in certi casi sono decine di anni. Ma ultimamente, soprattutto con lo sviluppo della ricerca nei campi trasversali, che ormai sono diventati quelli che hanno lanciato le ultimi cicli economici, ebbene, questi tempi si sono ravvicinati moltissimo. Quindi il problema anche della comunità europea è quello di capire come fare a rendere più vicini fra di loro i meccanismi della ricerca con quelli dell'innovazione. Ora noi abbiamo degli esempi negli Stati Uniti di grande efficacia in questo. La comunità europea ha proposto ormai da tempo due programmi importanti. Uno è quello dei programmi quadro e l'altra iniziativa importante e recente è lo European Research Council, che sulla scorta anche del meccanismo tipico che si usa negli Stati Uniti, sta offrendo modalità di finanziamento alle università e ai centri di ricerca, in modo tale però, non solo da valutare la ricerca fondamentalmente per la sua qualità, ma soprattutto per far sì che questa ricerca possa avere ricadute ed effetti. Ora, il Consiglio europeo nel programma Europa 2020, non ho nulla da insegnare qui, l'unica persona che potrebbe spiegare bene queste cose è il Presidente Barroso, si è proposto fondamentalmente al fine di rafforzare l'innovazione europea, di portare l'investimento combinato pubblico e privato di ricerca e sviluppo al 3%. Ora, questo non so se è un obiettivo che potrà essere raggiunto. Quello che è importante è la parola combinato. Il vero problema che distingue, a mio parere, l'Asia e gli Stati Uniti dall'Europa è la capacità di queste due altre grandi concentrazioni di sviluppare insieme la ricerca industriale, la ricerca pura, la cui distinzione francamente ormai non si capisce più bene perché non è più così chiara e così netta per fortuna e le applicazioni industriali in un modo diretto. Io credo che oltre a queste iniziative della Comunità europea siano importanti anche iniziative nel campo legale, fondamentalmente dalla difesa dei diritti di proprietà e della possibilità che i diritti di proprietà vengano appropriati direttamente da sistemi come, da un lato, l'università e centri di ricerca, anche privati, in modo da incentivare la crescita di queste iniziative comuni. Un esempio è questo che voi vedete, AT-ICT Labs, che sono un programma, a mio parere, di grande importanza perché chiede nel quale vengono finanziate quelle iniziative in cui fondamentalmente le imprese, i sistemi pubblici e la ricerca delle università e dei centri di università costruiscono insieme progetti e mettono ciascuno delle risorse economiche e finanziarie. Quindi chiede un impegno a priori. Molto spesso dare dei finanziamenti non ha avuto dei risultati. Così si chiedono degli impegni a priori a tutte le parti e questo è sicuramente un incentivo per non buttare via lavoro, tempo e danaro. Ora, la situazione delle università. La situazione delle università, questo è il ranking QS delle migliori università del mondo, le vede l'Europa ancora in situazioni molto delicate. Queste sono le prime 20, dalle bandierine capite che abbiamo solo l'Inghilterra e la Svizzera in questi primi 20, andando nelle successive fino alla 40esima cominciano a comparire Hong Kong e qualche cosa dell'Europa, Tokyo è già la 26esima. Il problema è come risalire in questa graduatoria per l'Europa, non solo per l'Italia. Io credo che questo sia un problema di estrema serietà proprio in relazione a quello che dicevo poco fa, cioè al fatto che occorre che nel risalire le università e i centri di ricerca abbiano fondamentalmente un ruolo trainante. Ora, l'evoluzione del sistema formativo nel contesto europeo sta avvenendo. Le università e i governi hanno reagito positivamente a questo ritardo, hanno compreso chiaramente che c'è un problema europeo serio e stanno reagendo con alcuni aspetti centrali, la nuova governance, un maggiore decentramento del sistema pubblico, la quality assurance e valutazione e maggiore competizione. Io credo che la maggiore competizione che si sta instaurando tra le università europee sia la chiave per il prossimo futuro e quei governi che avranno capacità di incentivare le università sulla qualità avranno anche la capacità di vederne dei risultati a più breve periodo. Le dirò fra un istante, ma anche i risultati che abbiamo avuto in Italia con la nuova legge Gelmini, a mio parere, vanno in quella direzione. Perché andare in quella direzione? Perché questo è un grafico che dice una cosa molto importante. E cioè dice che se l'istruzione è un'istruzione di qualità, allora c'è una correlazione molto forte tra questo, tra il grado di qualità dell'istruzione e la crescita del PIL per Ocapite. Questo è un dato che vede tutti i paesi messi a confronto e la qualità è misurata attraverso il famoso test PISA, che misura attraverso una serie di test le risposte degli studenti sia nel settore della matematica che nel settore della capacità di discorrere, di esprimersi e così via. Ora io credo che questa sia un po' la chiave su cui oggi faccio questa discussione breve con voi. Cioè la spesa per la pubblica istruzione, la spesa per la ricerca è sì importante, ma questa deve assolutamente essere di elevata qualità. I dati ce lo dicono, così come gli stessi dati ci dicono che la pura spesa da sola non produce necessariamente una migliore esito dal punto di vista della crescita. Quindi questa strada intermedia è qualità, una volta di più. Ma come? Ora, io credo che il come vuol dire, un pochettino ho provato a dirlo finora, da un lato un incremento forte della capacità delle università di competere fra di loro e poi la seconda cosa è per la ricerca, una forte relazione tra ricerca e innovazione. Ora io sono convinto che questo genererà nei prossimi anni una maggiore differenziazione, cioè man mano ci sarà competizione, che la qualità aumenterà. In Europa non avremo una unoformità, ma avremo una differenziazione e una mobilità quindi delle persone. Non ritengo che questo sia una cosa sbagliata. Si è molto spesso discusso di questo problema, dei giovani che debbono muoversi e andare qualche volta fuori dal loro territorio. Io credo che se l'Europa crescerà sarà naturale per i giovani considerare l'Europa la loro casa e quindi muoversi dalla loro sede, dalla loro casa, in altre nazioni dell'Europa, in altre università, in altri centri, in altri luoghi di ricerca. Dobbiamo quindi aspettarci questo e quindi dobbiamo pensare come potremmo operare per quello che riguarda fondamentalmente la capacità attrattiva. Abbiamo abbastanza capacità attrattiva? Le università italiane ce l'hanno? I dati ci dicono che l'Italia in questo momento è in perdita. Questi dati ci fanno vedere che il guadagno di talenti è in positivo negli Stati Uniti, in Canada, in Spagna e così via, ma è sia pure in lieve negativo in Italia così come in altri paesi. Ora, come fare per recuperare questi spazi? I dati statistici ci dicono che i motivi per cui i talenti si spostano sono fondamentalmente questi, maggiore salari e maggiore premialità. Parliamoci chiaro, ormai da un punto di vista dei talenti, quindi dei professori di grande qualità, dei ricercatori di grande qualità a livello internazionale, l'Italia è fuori mercato. Quando noi all'Università Lewis dobbiamo chiamare un professore straniero, abbiamo difficoltà a farlo, perché uno stipendio medio di 300 mila dollari non è quello che corrisponde a uno stipendio nostro italiano. Cerchiamo di risolvere il problema, lo stiamo facendo, con varie escamotage, ma appunto il mercato internazionale dell'alta qualità ci sta vedendo in perdita lenta ma pericolosa. Naturalmente questi sono gli elementi, oltre a quelli dei salari e le motivazioni di carriera, che sono altrettanto importanti, io credo che ci siano anche le opportunità infrastrutturali, cioè il fatto che si creino e ci siano centri di ricerca seri che funzionano e che si crei quella comunità scientifica che in Italia c'è sì, ma che qualche volta ha avuto una serie di problemi. Quindi questa io credo sia una nostra importante dovere, il dovere di cercare di muoverci solo sulla qualità, e questo si fa solo scegliendo e attraendo le persone più capaci e più competenti. Ora, la situazione italiana, brevemente, nel 2005, in un articolo molto noto, Faini e Sapir sostengono questo che io vi leggerò. Un'analisi comparata mette in luce come la struttura settoriale delle nostre esportazioni sia rimasta sostanzialmente immutata, soprattutto se confrontata con quella degli altri paesi industrializzati. Le esportazioni italiane rimangono quindi sbilanciate, ancora di più che nel passato, verso settori tradizionali, a loro volta sempre più esposti alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Le cose da quando Faini e Sapir scrivono questo articolo sono, a mio parere, cambiate in parte, e questa serie di dati ve lo conferma. L'Italia sta reagendo in modo positivo. Non prenderei l'atteggiamento pessimistico che era implicito nell'analisi di Faini, che pure era un'analisi molto attenta, perché si vede dalla parte sinistra del grafico che il riposizionamento del nostro esport c'è, è verso il medium tech, ma c'è, e quindi la parte relativa, in qualche modo, alla capacità industriale di rispondere anche a livello internazionale sta migliorando. Non siamo a livello della Germania e degli USA, ma ci stiamo muovendo in quell'ottica. Quindi la mia impressione è che, fondamentalmente, quello che noi dobbiamo fare, quello che è il compito dell'Università e dei centri di ricerca, è quello, da un lato, sì, di stare attento a formare competenze che siano in linea con quello che è il rapporto domanda-offerta di lavoro, perché abbiamo un mismatch tipico, mancano moltissimi ingegneri in Italia. Però dall'altro lato noi dobbiamo andare oltre, in qualche modo. L'Università deve essere capacità di essere propulsiva, in questo senso, deve offrire quindi e creare risorse intellettuali e competenze che vadano al di là delle esigenze del momento del mercato del lavoro, in modo da promuovere l'innovazione e la crescita economica del Paese. E' quello spazio in più, è quello spazio di competitività internazionale che ci permetterà di dare un aiuto, se saremo in grado di farlo, anche alla nostra economia. Ora, io credo che la riforma Gelmini, sto avviandomi verso la conclusione, che la riforma Gelmini abbia dato un segno positivo in questa direzione, perché in fondo chiarisce e rimette le cose in ordine per almeno due o tre punti assolutamente essenziali del sistema universitario. Il più importante, a mio parere, è il percorso delle carriere per i giovani. Ora, i giovani oggi hanno un sistema per cui rimangono, scusatemi, in bagnasciuga per un numero di anni incredibile senza riuscire a fare le carriere interne all'interno dell'Università dei Centri di Ricerca e quindi nemmeno a riuscire a capire quando non sono adatti di trovarsi altre alternative. Io credo che questo percorso, individuato dalla riforma Gelmini, della tenure track, che ha un periodo di sei anni di formazione rigorosa e che, se porta buoni risultati, permette ai giovani di fare carriera, sia uno degli aspetti più positivi. Altri, altrettanto importanti, sono sostanzialmente legati alla nuova governance interna al sistema. Questo però, la nuova governance, non riguarda molto la LUIS perché, per fortuna, la LUIS ha una governance molto moderna, molto efficace e che è stata, in qualche modo, anticipatoria rispetto anche alla riforma Gelmini. Ora, noi abbiamo deciso quindi, per quello che riguarda la LUIS, parlando adesso della LUIS, dirò anche alcune cose del nostro stato dell'arte, anche a nome del direttore generale, che oggi, stando molto bene, non ha potuto fare il suo intervento. Ebbene, io credo che la LUIS, quando abbiamo iniziato a decidere che la riforma per noi era un punto di forza per il futuro, abbia risposto molto bene. Devo ringraziare, in modo veramente sentito, presidi, direttori di dipartimento, tutti coloro dell'Accademia che hanno partecipato a quello che ormai è un progetto pronto, un progetto che è stato già provato recentemente e che sostanzialmente potrà essere l'elemento per dare una spinta avanti importante alla LUIS nel suo futuro. Un primo punto è quello su cui ho già insistito, il reclutamento di alto livello. Io penso che questo sia un punto chiave per il futuro. Se avremo anche pochi personaggi di grande qualità, capaci di crescere ai giovani, i giovani nel territorio internazionale, oltre a quelli che abbiamo già ben inteso, ebbene io credo che questo ci permetterà di avere la carta vincente, di essere più visibili in Europa, cosa che stiamo lentamente facendo, crescendo nel contesto, appunto, europeo. L'altra questione per noi è stata come fare? La strada è molto semplice, accettare i meccanismi di accreditamento internazionale e quindi che in qualche modo forzano le università che vogliono essere accreditate, messe nella famosa lista che abbiamo visto prima, a una serie di requisiti straordinariamente stringenti che chiedono qualità in tutti i sensi, ma che vanno nei dettagli. Se noi seguiremo questo avremo la via maestra tracciata per proseguire e proseguire con una, diciamo, performance di qualità. Le cose che fondamentalmente abbiamo fatto sono state ristrutturare la nostra governance in dipartimenti e scuole e per dare un impulso alla ricerca più forte, strutturale all'interno dei dipartimenti, fondamentalmente, delle community, research communities, con l'idea che le scuole debbano avere quello senso importante che permette di fare un ponte tra quello che è il mondo dell'accademia e quello delle professioni. La LUIS ha questo, diciamo, chiave fin dal suo inizio e sviluppando due scuole importanti, quella di business che già tradizionalmente avevamo e la school of government di cui abbiamo parlato anche con il presidente Barroso poco fa, ebbene, noi speriamo di creare quel ponte verso le professioni che serve non solo per la qualità ma serve anche agli studenti per avere una realtà e le possibilità per il futuro. I passi rapidamente vengono alla conclusione. I passi già compiuti quindi sono una forte incremento della internazionalizzazione i dottorati i doppi double degrees con università già abbiamo un tradizionale rapporto con Fudan che ogni anno vede i nostri professori andare a insegnare in Cina siamo partner di circa 120 università in 27 paesi nel mondo abbiamo una forte mobilità degli studenti cosa che più mi interessa in questo grafico che adesso vedete anche se in media solo il 2-3% degli studenti sono stranieri in alcuni dei nostri master abbiamo l'80 al 90% di studenti stranieri quindi questo ci insegna come fare la formula per attrarre studenti sostanzialmente abbiamo avuto questa attività dell'Igep che ha visto due premi Nobel partecipare in sostanza io credo che noi stiamo andando fortemente verso l'internazionalizzazione è qui presente e lo saluto in aula l'ambasciatore dell'Iraq con un gruppo di diplomatici a cui abbiamo fatto un training già da due anni e qui sono presenti anche gli studenti della Kraner Business School della Porgio University un piccolo segno che non parliamo soltanto tra di noi concludendo io credo che la LUIS abbia migliorato molto la qualità dell'insegnamento e della ricerca negli ultimi anni mantenendo la sua cifra tradizionale quella di offrire ai giovani elevate possibilità di impiego e di carriera al termine degli studi ora noi siamo tutti consapevoli delle difficoltà per muoversi in questo terreno e delle difficoltà anche italiane per muoversi in questo terreno ma io credo che non vi siano alternative alla qualità voglio dire agli studenti che sono qui presenti mi rivolgo a loro per concludere che noi abbiamo un compito che avrà tanto maggior successo quanto più voi vi parteciperete attivamente perché siete voi che dovete costruire la vostra professione futura e la vostra personalità formarsi vuol dire formare se stessi in modo libero con le vostre forze e la vostra volontà e naturalmente con il nostro aiuto vuol dire crescere intellettualmente e professionalmente e maturare come persone responsabili e non da ultimo come buoni cittadini dell'Italia e dell'Europa tanto meglio vi riuscirete e tanto maggiore sarà il nostro successo grazie